il bando di azioni d'impresa pubblicato da regione toscana e aperto dal 27 anno scorso consente ai giovani alle donne e soggetti destinatari di ammortizzazioni sociali di poter essere aiutati ad aprire un'attività questo attraverso un finanziamento tasso zero pubblico quindi senza intervento di garanzie o di merito creditizio bancario e che è legato agli investimenti che le aziende dovranno sostenere lo possono utilizzare i nuovi imprenditori coloro che stanno pensando di aprire un'attività o coloro che sono già in attività e vogliono crescere da meno di due anni tutti i nostri uffici del territorio sono a vostra disposizione per poter valutare i progetti e aiutarvi nell'accesso al bando che avviene esclusivamente con procedura informatica